K.M. Codice etico, esperienze positive, messaggio forte e chiaro, azienda natura rispetta, ugualianza tra i dipendenti, norma antiriciclaggio, nozioni appuntate nelle aule, concertazione sulla spiegazione e tende di questo nome, protagonisti signori unghetti, figli ai dipendenti, rispondono le sue domande senza esitazioni, personalmente si era una perfezione, mi ha colpito la loro completa disposizione, sicuramente eccezionale come collaborazione, antenanza scuola lavoro, capisci che non abbastanza ciò che sai sul lavoro, dalle informazioni tra lo vantaggio, non medica, non denezza il paesaggio, trasmette conoscenze, valori, la loro natura ci sta di essere milioni, hanno aperto le porte da alcuni di noi, avessero potuto e ci avrebbero raccolti per intero, fa gesto, vi può onore di dedicare ai normali studenti fatti delle vostre ore, a danno della vostra produzione, arrivate pronti su ebook, presentazione, se vi portarci riferimento, seguire meglio l'argomento è difficile da spiegare, eppure esempi concreti, fluidità, conoscenze, vi permette di approfondire legalità, interpretità morale, sensi risponsolubilità, trasparenza, l'azienda ci tiene alla qualità dei prodotti, che dovrà averne bisogno in nostra di implodi, hanno medica o credito, alcun fiducia dovrà presentare la realtà, tra la strada e nella gerarchia, la collezione nasce in sera d'osso, ancora i generi giovanotti, che ama, per partire il problema nell'avere un comportamento etico di un'antico, di militare e raccontare delle aziende farmaceutiche, che si occupano delle problematiche africane, si ricevano farmaci, spesso utili, quanto una bottiglia vuota nell'eserca, chi va facci, tra la differenza non fa solo un esperto, la loro invia medicina vera, che è umanitaria, che va a vita, è ciò straordinario, dovere verso l'essere umano, obiettivo principale di una azienda etica, rinaglia di qualità, grazie a questa esperienza, il primo momento, l'attenzione di lisa è intatta,